buongiorno buongiorno oggi crema di castagne allora abbiamo preso un bel chilo di castagne lo stiamo appunto intagliando sia sopra che sotto la abbiamo lavato prima nata e poi proseguiamo a usare questo, come ho parlato, ti guardi psittate e poi ti guardi la stagione come ti guardi, ti guardi la stagione e ti guardi la stagione per cui ti guardi la stagione e ti guardi la stagione per questo, ti guardi qui e i guardi un calcione bella la bella delle castagne la crema di castagna e il caldo giusto la stagione di badella ora lo facciamo la caccia ti senti? no ora la caccia la caccia ora la caccia mettiamo acqua fino all'orlo mettiamo un pizzichino di sale un po' di melch un po' un po' un po' un po' un po' un po' ora andiamo fuori dal balkone a prendere la loro oppure il balkone, l'argo che vi ho fare orccontato come si è stato samedi signo Musa attiennent tutto un piantino più piccolo poi c'è quella più grande quali più grandi al fuori più grande si teniamo una fuori qui, orccontato o, signo Musa vi ho prensato quanti sono prezzi? quanti sono prezzi? 3 si, bellissima Andiamo a chiudere Quanto tempo resta? Mezz'oretta, invece nella penna normale 45 minuti Quanto tempo resta? Ok, a dopo Ok, sono pronti? E' ancora caldo Caldissimo Lascia raffreddare un pochino Andando che si raffreddano io finisco di fare il mio melograno Buonissimo, guardate un po' che meraviglia E' del Marocco però Cosmine Com'è? E' buono il mio melograno? O, mm Buonissimo Wecentiamo il miолоino Grazie più bezi massimo si fai prendere il quattro si fai prendere l'indicazione se fai prendere il quattro e poi prendere la peina perché fai prendere le bambini se fai prendere il quattro si fai prendere la città che era la città? è un po' è davvero facile se fai prendere la città allora allora abbiamo finito di pulirle stiamo sterilizzando i vasetti e adesso vediamo un chilo di castagne quando ci ha dato allora mettiamo questo sopra azzeriamo andiamo a mettere le nostre castagne all'interno della pentola e adesso andiamo a pesare 700 grammi 300 di buccia allora allora per lo zucchero ogni chilo di castagne ci vogliono 250 grammi invece 700 grammi mettiamo 150 grammi quello di barbabietola azzeriamo e mettiamo ok allora mettiamo 200 di acqua ok buono 210 ok mettiamo giù la situazione allora andiamo a frullare il tutto frullato il tutto adesso lo metto sul fuoco a fuoco basso una tremenda per 20-25 minuti circa azzeriamo 20-25 minuti azzeriamo giocarlo sempre poi quasi pronta si sono sterilizzati raffreddati e siamo pronti per metterli bella e buona buonissima non buona sai quanti volte l'ho assaggiata appunto sei di mezzata ok spegniamo allora mettiamo all'interno dei bacetti la quantità c'è dato 3 basetti no? esatto la quantità c'è un pozzetto 3 basetti e la quantità c'è un pozzetto C'è sempre più importante. È ovviamente di fare un po' più grande. Non ci sono alcuni. È un po' più grande. Ci sono un po' più grande. E' un po' più grande. Segui 3-4. C'è il po' più grande. C'è tutto. Si, non ci sono stati rinici e altri 30 minuti. 45 minuti. Sono stati fissati. Ci torniamo qui. C'è un'esipto. E' un'esipto che c'è una mangiare dopo? Non c'è. C'è un'esipto che c'è una mangiare dopo. E' un'esipto che c'è un'esipto. Ci sono stati qui sceglioni e non sono stati. Noi, sono stati. C'è un'esipto. Ci sono stati fissati. e invece i fatti di qui e le metti per l'estero e ci sono non si può fare non non si può fare e ci sono qui si accettate questa è la prima cosa è che la prima cosa e ora e a far fare un piacino qui devono aggiungere un piacino con questa macchina con la crema e l'aricina e il piacino e le quali sono i pizzi e il piacino e la cronofile per far fare e le faccio e ora vedono la vendita è pronto l'essere del giovane un po' sul castello e il sottile ci sono poi e la colazione il croce si vede a crescere a eserci qui il canale del canale si vuoi che crea il caaccia si vuole i che la collezionati questo consiglio che siavaisete alla cac�isca e poi vedete la mia cac� a casa per te vi inserite le cac� le cac�isca via la cac�isca Guardate come si 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 vede la cac�isca e le Swina e prima di assurdi al cac�isca non ci vede più Spero che vi sia piaciuto questo video, al prossimo! La tisana è pronta, buon appetito! Grazie! Ciao!